Sì, scusate! A me, grazie! Allora, domani busciamo tutti i blog, eh? Ah, lo sai, eh! Io lo posso di tanto, sostanzialmente! No, ma a me, Dio, sì! Cazzo così, signorina, lo ho fatto! Cazzo è un grande, ma quando guardo il tuo blog, perché sono... Cazzo è un viaggio, non lo sai, questo è stato! Grazie, poi mi segui la roba! Sì, poi mi segui la roba! Sei, sei, sei anni, pure 99, quindi sei la che ho messo nel... Ah, ok! Sì, adesso ho messo invece la... Messe di chiara di storo scatenato! Cazzo è stato loro dei primi, ancora con i blog non c'erano, è stato giusto! Cioè, quando nessuno li chiamava blog, tu poi mi hai già iniziato a fare qualcosa di più, mi hai già iniziato a fare qualcosa di più, mi hai già iniziato a fare qualcosa di più! Non so che trappo deve fare, sai quale è il mio pezzo superissimo? Vale! La pezza al giro! Eh, non so! Ah, eh, se c'è ancora sì, cazzo! Se c'è ancora! Volentieri! Ma dovrei avere sei di pomeriggio, cazzo! Vedi, tre, quattro minuti, senti... Eh, cazzo!